Lui non c'era l'altro, di Chigiusino alla Camera Ardente in Campidoglio, di Bad Spencer. Sono alla Camera Ardente di un grande del cinema italiano, solamente il fatto che i grandi, tutti adesso dicono è stato un grande, è un grande, è qua, è là, ma lui era grande pure agli esorti. Anche Paolini, Stagano, non so se ti ha visto. Allora, che succede? Queste persone non hanno mai dato un premio, un David Notello, un telegatto, una cosa, ma proprio hanno dedicato le vie, le piazze, ma da morto una persona, che ce se ne fa di una piazza, se in vita non ci ha mai avuto un premio, come giusto che sia. No, oddio, non è che non ha avuto premi. Non c'ha avuto premi importantissimi, e c'ha avuto, non c'ha avuto un David Notello, un... Guarda, scusami, io ho una sola cosa da dire, proprio che sono stravolto, il premio? Il premio è la gente. Il premio è questa fila. Il premio è la gente. Se c'è quella persona che non vuole la medaglia, il premio è la gente in fila. Ecco, ciao, Gabriele, se ne va. O lui, se ne va. Ciao, Paolini. Quello che dico io è un'altra cosa. Una persona va amata, anche in vita, no? Perché poi quando uno muore dicono... Sì. Io non dico dal popolo, io dico dalle persone che... Io non riconoscio qualche cosa, non gli hanno mai dato niente. Premio non gli hanno mai dato. Filmi importanti non è che ne ha fatti, no? Eh? Filmi importanti non le ha fatti. Come ne ha fatti? No, vabbè, sono conosciuto in tutto il mondo i film. Ma sì, il mio WS. Riprendi anche questo, ecco qua. Vai, qui riprendi. La Raggi è alle ore 13, la rappresenta qui. Fino a Mendola mi ha fatto. Camera ardente fino alle ore 19. Ok. In Piazza del Campidoglio, la rinchiamo. Genico. E siamo alle 11 e un quattro. Posso dire una cosa? Una persona umilissima in cui abbiamo fermato un attore che... Sì. Veramente è Pino a Mendola, di cui c'ho anche il video. Di Pino a Mendola. Edoardo Aiello, Saeed Edoardo Aiello. Amici fratelli. Ello di Napoli.